Ciao Geriso, io sono il salutatore, salutiamo tutti i tuoi fans. Ciao, ho dei fans qua. Ce n'hai tantissimi, ce n'hai, scusa è stato un grande, poi c'hai una simpatia incredibile la tua parlata, poi non potresti cambiarla. Ti ho preso posto di Don Lurio diciamo. Simpaticissimo anche lui, grande Don Lurio. Tu su internet dove stai? Su Facebook e Twitter? Facebook e Whatsapp, quello più personale, ma su Facebook. Su Facebook, ti fondi tu? Sì, mi piace, mi piace. Ecco, noi troviamo tutti i tuoi fans nel web. Ciao, ciao, ciao. Ciao dal Travolatore Grande Gerison. Ciao.